Questa giornata mondiale della gioventù a Cracovia è stata una ossigenazione spirituale perché possiate vivere e camminare nella misericordia, una volta ritornati ai vostri paesi e alle vostre comunità. Papa Francesco lo ha detto ai quasi due milioni di giovani protagonisti della messa di chiusura nel Campus Misericordie prima della recita della preghina mariana dell'Angelus. Una preghiera recitata guardando l'immagine della Vergine Maria venerata da San Giovanni Polo II nel santuario polacco di Calvaria. Una Vergine ha spiegato il Papa che ci insegna a fare come lei, non disperdere il dono ricevuto in Polonia ma custodirlo nel cuore perché germoglie e porti frutto con l'azione dello Spirito Santo. E Francesco ha annunciato che la prossima tappa del plegraggio dei giovani del mondo iniziato nel 1985 da San Giovanni Polo II sarà Panamà, il paese centroamericano che ospiterà la GMG del 2019. Parole che hanno subito scatenato l'entusiasmo della delegazione di giovani panamensi guidati dal cardinale Lacunza Maestro Juan e dall'arcivescovo di Panamà Ulloa Mendieta.